Ovviamente in bocca al lupo, anche se noi non l'abbiamo votata, non tanto per la persona ma anche e soprattutto per la maggioranza che nel frattempo si era verificata, la maggioranza con i verbi, con le varie sinistre che sono incompatibili con Fratelli Italia, quindi Fratelli Italia non l'ha votata, ma comunque continueremo con serenità e determinazione a difendere gli interessi nazionali e non verrà meno la difesa degli interessi nazionali da parte nostra e non verrà meno sicuramente nemmeno ad Ursula von der Leyen il rispetto per l'Italia.